Abbiamo visto nelle puntate precedenti come utilizzare un modello di base di strategia, il modello delle 5 forze di Porter. Naturalmente so che ci saranno i fenomeni che diranno ma queste sono cose note oppure queste sono cose teoriche, insomma le obiezioni per non mettersi di fronte ai veri problemi da affrontarli sono diciamo semplicemente secondari alla capacità degli uomini o delle donne di trovarsi delle scuse. Io parlo agli altri, gli altri sono quelli che si chiedono se le cose vanno bene cosa sto a sentire questo video e altre ancora che dicono visto che le cose vanno bene stiamo a sentire questo video e altri che magari invece le cose non vanno così bene e cominciano a chiedersi magari potrebbe esserci qualche cosa che mi aiuta. Quindi riassumendo le considerazioni il punto dal quale partire e prima si impara a camminare poi si comincia a correre e porsi attorno ad un tavolo e ragionare su queste cose di base. Quanto è forte la competizione interna a questo settore? Quanto è la minaccia che arrivino degli altri a fare quello che faccio io? Magari nuovi, nuovi entranti? Qual è la minaccia di sostituzione del mio prodotto da parte di altri? Qual è il potere dei contrattuali dei fornitori? Qual è il potere contrattuale dei clienti? E lì le persone attorno a un tavolo devono cominciare a mettere dei numeri, delle percentuali o magari delle freccette, delle ondine come nelle previsioni del tempo, delle stelle, cioè trasformare dei ragionamenti qualitativi in ragionamenti quantitativi. Dopodiché la discussione passa ad una seconda fase. Questa è la situazione oggi, as is, mal to be, domani, dove vogliamo andare? La variabile clienti sarà uguale, la variabile fornitori cambierà e via discorrendo su tutte le cinque discussioni che molto rapidamente in queste pillole vi ho messo. E per ciascuna di queste con una doppia colonna oggi e domani le persone si devono interrogare sui cambiamenti del mercato. Queste sono le basi della strategia. Allora io vi auguro che da queste pillole voi diventiate quelle che si chiamano pioneering companies, imprese pioniere, imprenditori pionieri. E guardate che essere pionieri, cioè avere delle buone nuove idee, non è un fatto di dimensione, di fatturato, di conoscenza o di che sai quali master avete, ma di buon senso, ma anche di umiltà di studiare quelle regole basi che sono le regole del gioco che pochi invece hanno, diciamo, l'attenzione di coltivare. E da ultimo ricordarsi che questo tipo di modelli del quale vi sto parlando sono le basi, il punto di partenza, non il punto d'arrivo. Ma è molto meglio partire con una discussione organizzata su pochi concetti chiave, importanti, per quanto semplici ma non banali, che invece fare delle chiacchierate a caso, continuando a ripetersi sempre le solite cose. Perché vi dico che mi è capitato per esperienza di notare che i nuovi modelli portano gli imprenditori a conoscersi di più. In una giornata di consulenza che ho fatto in questi giorni, alcune persone che facevano parte di un CDA, hanno detto, beh, finalmente ci conosciamo. E questo è molto importante, molto importante per guidare le aziende. Alla prossima.